Ragazzi bentornati e bentornati su mio canale, io sono Magrus, siamo sempre qui su FIFA 21 carriera allenatore Milan non siamo partiti male, certo con la Dio abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo vinto pure 2-0 alla grande però con l'Atalanta abbiamo pareggiato last minute, però sembra che Ibrahimovic sia ritornato in forma Leao sta salendo, vabbè l'acquisto al centrocampo offensivo l'abbiamo fatto mi sta dicendo che comunque è un centrocampista offensivo per quanto FIFA per lui sia umano a sinistra vabbè, lasciamo perdere, detto questo prima di andare avanti volevo un attimo dare un'occhiata SAF primavera, vivaio, perché in SAF primavera qualcosa dovrebbe essere arrivato allora questi qua se mi sbaglio li avevano già visti, paretesse pure Castro, questo se non sbaglio no potrebbe non essere male Cardenas, ma costa se mi dissero che probabilmente se 250.000 doveva essere un prezzo questo vale 2.100, com'è che vale 2.100 questo? Nacio Cardoso, argentino come è che vale così tanto? vale tanto? allora io lo ingaggio ma sarà un errore? no, ma non ho mai visto uno che vale così tanto guarda qua vi facciamo anche un piano di crescita allora è un esterno a sinistro quindi magari potrebbe essere anche un sostituto di Luxout o di Urzi diciamo che questo già parte da 67 quindi già se la tira un po' con Urzi praticamente io farei un bel piano di crescita poi magari ce lo prendiamo subito e qui li vado? no, esterno di centrocampo esterno invertito certo quanto è alto? giusto per magari di cambiare piede debbi ti cambiamo ruolo dov'è? allora fammi capire qual è la tua capacità? 1.77 sei altissimo c'è una buona equilibrio agilità potresti essere un centrocampista lo sai? magari un bel centrocampista offensivo e così ti cambiamo di ruolo che dici? io gli cambio di ruolo prima di crescita io gli cambio di ruolo a questo lo faccio diventare esterno a sinistro lo faccio diventare tanto comunque velocità di scatto ha 69 è un chiodo cioè non è veloce lo faccio diventare centrocampista difensivo no centrocampista offensivo un bel ciocci secondo me ci sta poi magari ci pentiamo che dobbiamo fare? però abbiamo provato allora direi di andare avanti poi vi promuovo in prima squadra tranquilli non vi preoccupate siamo secondi il primo è il Bologna vabbè offerta per il trasferimento anche Musacchio ma che due palle Musacchio non lo possiamo vendere non ci abbiamo centrocampista e due difensori o meglio ce l'abbiamo e altro scherzi abbiamo capito comunque come funziona sta cosa noi comunque sappiamo che non ci dobbiamo arrendere già dall'inizio visto che abbiamo il Milan quindi l'idea di partire è già abbastanza forte allora come ci mettiamo in campo io farei giocare sempre le av perché comunque Ibra lo faccio magari entrare nel secondo tempo un Cuccio ho giocato abbastanza bene sinceramente l'Axalt io non lo so mettiamo Urzi perché Urzi lo voglio far salire sta giocando anche abbastanza bene allora c'è la Nopul io voglio dare un po' di fiducia perché poi mi sembra giusto dai poi magari facciamo entrare un Cuccio lo faccio entrare nel secondo tempo la rabbia sta bene là e Nadez pure sta bene lì bene a sé lo potremmo far giocare al posto di che sì perché con due Cdc no perché poi Tonale è un regista quello del Cdc giocavo un po' più dalla fase difensiva perché ultimamente è un po' pare poi volevo far giocare a Musacchio vi dico la verità perché sta giocando anche poco è vero che c'ha lucidità 36 però Musacchio comunque deve giocare perché dobbiamo fare un po' alternare i giocatori pacchettata tra l'altro mi avete detto che sono dovuto venduto per cui capire lasciamo oh Ibra scusami io ti metto sempre in campo è sempre meglio non si sa mai dai le amo fatti rispettare guarda lo barboot mamma barboot mamma mia che deve premiare guarda lo c'è Urzi eh sì ma come si fa ma come si lo sapete che non so la prima punizione che battiamo si pensa sia caricare il tiro dimensione del bersaglio del tiro pensa sia sempre lo stesso no sì maledetta sì pensa sia sempre lo stesso sì a chi facciamo tirare chi sta sulla palla c'è la no blue vabbè faccio tirare lui dai questa è la tua punizione magari lontana senza problemi ma non ho parole non ho parole per quello che è successo poteva essere il gol del vantaggio eeeh mamma mia stiamo a due ma che sbilenca questo è cieco uh è partito eeeh t'avevo visto scusa mi Urzi t'avevo visto eh mo basta dobbiamo segnare eh sì allora che dici scusate vi segnate il nome di questo portiere ce lo pigliamo oh c'è la no sta facendo un partitore tremendo guarda lì dove l'ha messo da quella parola occhio al corner legge bene in una situazione pericolosa penso sia nostra uh no ottima l'uscita del portiere che riesce a togliere ma metterla scusate ma mi lasciate ah se è barbù ci sta nessuno in mezzo che ti devo dire andiamoci guardalo barbutto guardalo barbutto oh ma una che è la mia destra niente no vai barbutto mamma che palla ok è buono è buono ve l'ho detto che te Hernandez è forte non capisco mamma mia ragazzi mamma mia la classe non è acqua proprio porca la miseria questo è un campione 38 anni un campione un campione leao faglielo vedere è vero che comunque Teo ha fatto un'azione spettacolare porca miseria Ibra guarda lì entra 5 minuti 2 secondi una sforbiciata spettacolare attenzione 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 e basta mamma mia è meno male finisce 1 a 0 con un gran goal un gran goal ma che sudare mamma mia allora come al solito abbiamo sempre questo problema creiamo 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 in continuazione ma segniamo poco secondo me ed è un danno secondo me perché poi alla fine c'è come ti mandi al sinemone mamma mia questo non ci arriva a fine campionato muore c'è la faccia si è riuscita a vincere un match come a tutto grazie a un gol nella ripresa cosa ha fatto la differenza secondo lei il campione ora dobbiamo pensare abbiamo giocato meglio avete vinto con un solo gol di scarto è stato più difficile previsto battere una persona sulla carta più debole come la squadra udinese ma non offendiamo è stata una bella partita Musso è stato 3 milioni in campo sul serio ragazzi non l'ho visto conosciamo i suoi punti deboli ciao vabbè basti l'abbiamo vinta meno male aggiornamento votazione tecnico 85 stiamo salendo dobbiamo tenere d'occhio il vivaio perché ci stanno un po' gli allenamenti si collezione trofei Urzi c'è qualcuno che sta ben assersa un po' stanco non potrei neanche dobbiamo cambiare un po' qualcuno perché se no qua si scagna Urzi 83 però Urzi non lo farò giocare quindi facciamo così simuliamo tutto ah c'è vabbè nello spazio non l'ho fatto vabbè dobbiamo fare ancora alcuni allenamenti nel frattempo Ibrahimovic è capocannoniere quindi questo è importante attenzione perché abbiamo due partite molto vicine quindi secondo me bisogna fare qualche cambio se no mi arrivano i giocatori un po' stanchi Rebic vediamo questa partita lucidità ci metano la facciamo anche giocare vediamo un pochettino e vediamo come gioca l'Axalt lo voglio far giocare Barbut noi avevamo anche un esterno destro se non ricordo male mi pare che tra un po' se ne va pure o se ne è già andato no era come si chiama l'esterno destro che abbiamo venduto ma aveva detto che era disponibile ma fino a quando non se ne è andato però e giocavo solo con un esterno destro Barbut devi fare tutto il campionato Barbut mi spiace per te Barbut ma ti dovrai fare tutto il campionato Barbut capirai non fa niente dai perché c'è il punto esclamativo su Barbut che c'è Barbut ah perché non gioca nel suo ruolo Barbut e meno male che non gioca nel suo ruolo Barbut se no sarebbe un campioncino allora facciamo entrare anche da qui al posto di Urzi tanto non lo facciamo entrare e voglio provare al posto di Barbut c'è 90 no non stai no solo 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 giochiamo così che merita andiamo pensate che settimana dobbiamo rigiocare ancora è è nostra che deve capirato la Barbut attenzione che grande errore che mi hai fatto che buco che buco e io avevo visto che Benevento era partito un po' forte noi abbiamo fatto un errore e l'abbiamo preso ci hanno segnato è stato l'albuco clic ok clic 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 oh è fallo ahhh ahhh eh sì scusa che vuoi attacchiare però vai Rebic bravo meno male comunque sui passaggi di profondità sono migliorati tantissimo perché hanno una buona accelerazione i giocatori si riesce a segnare di più mentre prima invece lo spazio non lo prendevano praticamente quasi male c'era uno sui spazi che si disperava bravo Rebic bravo vediamo se ce la fa l'exalt bello oxodrimling che zappata madonna santa ma è è sinistro credo credo sia sinistro perché questo dovrebbe essere un tiro al giro questo tira no porca miseria quando attaccano fanno paura brutta palla che mi hai dato a chi cerco in mezzo bel tio bravo ben asser non sembra male ehi che brutto che brutto stacco che mi hai fatto perché sempre più basse macchio oh questa è una brutta partita perché quando iniziano a fare tocco tocchetto tocco tocchetto così non riesco a fermarli cioè vado proprio in confusione guardate e poi lì ci ha fregato alla gran mazza questi sono tutti quanti vado in mezzo 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 c'è niente da fare c'è niente da fare il gol del campione il gol del campione è sempre lui riusciamo comunque a salvarla riusciamo a salvarla meno male meno male gioco a dieci minuti ormai preso posizione l'ha sbagliato il portiere però primo palo vabbè con tutti i pronostici bravo Ibra siamo riusciti comunque a recuperarla last minute perché obiettivamente rischiamamo di fare brutta figura secondo me brutta figura vabbè comunque cosa bella è che il torino ha perso pure 2 a 0 quindi ora sarà incacchiato nero e quindi farà un super partitone con noi però siete riusciti a radizionare il match negli ultimi 5 minuti si può parlare di pareggio fortunato la fortuna non c'entra niente iniziamo a offendere guarda riesce pure il fumare le orecchie è stato un difficile match non si aspettava una spada a Benevento così forte faremo tesoro dei nostri tori si non me lo aspettavo così forte vi dico la verità fa che sarà tra i migliori in campo nelle file avversarie a non essere riusciti a arginarlo credete e vi abbia impedito di ottenere personalmente è un ottimo giocatore si capisce niente quando incomincia a girare a fare fa paura praticamente vabbè si abbiamo già Torino subito personalmente mi voglio portare promuovì in prima squadra questo cardoso perché sono curioso di vedere che cosa mi diventa vi dico la verità bel lavoro per il nostro riuscito a accettare l'obiettivo che ci hanno previstato ingaggia un futuro campione siamo molto di calcrescia dei nostri giovani continua così ah vedi allora questo è un futuro campione cardoso perciò vale già così tanto questo lo dobbiamo fare allenare voglio fare giusto un cambio perché il Torino sarà super incacchiato dobbiamo stare attenti il centrocampo l'ho fatto abbastanza riposare infatti sono abbastanza in forma Rebic ah se vuoi diventare un 80 Rebic addirittura ecco tutto questo pare che ha segnato però continua per niente non mi entusiasma per niente il Turnhander sta un po' stanco ma terzini destri mi pare che non ne abbiamo io lo mettiamo al posto di Rebic Urzi lo mettiamo al posto di Traxalt non mi pare di avere un terzino destra allora c'è la cardoso esterno sinistra me lo voglio portare eventualmente lo facciamo giocare lo metto al posto di Cialanoglu perché anche in forma ma lo faremo sicuramente salire giochiamo così vediamo di riuscire a fare qualcosa bravo barbut ma non ho capito perché ti sei così è un brutto giocatore un giocatore parata eccezionale veramente ve l'ho detto attenzione dopo un inizio abbastanza buono ci siamo un po' fermati vai barbut forse se riuscivamo a darla a Urzi oh Urzi si infila tantissimo porca no non è fuori gioco stiamo un po' ballando difesa proprio tanto stiamo ballando a difesa ripartezza micidiale l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato ha sfruttato la perfezione è 1-0 è barbutto c'è nessuno non c'è nessuno incredibile sta cosa uno si deve sempre incacchiare porca di quella miseria porca di quella miseria abbiamo preso un palo tremendo primo tempo abbiamo preso un palo potevamo fare di più ma abbiamo fatto meno tanto tanto meno ma salta vabbè speriamo che esce ma la devi da prima non ce la fai di qua vai Ibra vai Cucu ci ha messo 60 ore per girarsi andiamo Urzi vai vai Urzi vai meno male ma segniamo solo così ormai però pecchiato altro pareggio vabbè dai non è male ma secondo me restiamo un po' troppo indietro soddisfatto per alcune partite però forse ci servirebbe forse un attaccante e più di razza perché Leao comunque alterna troppe fasi altalenanti si può parlare di pareggio fortunato anche ora la fortuna non c'entra niente e basta è stato un match davvero impregnativo come giudica per comparsa questa azione della sua squadra due ottime difese Inizio è stato tra i migliori in campo nelle file avversarie crede che la sua prova in difesa vi abbia impedito di ottenere un risultato dobbiamo concentrarci ci dobbiamo concentrare di più e ciao Parma ma nel Parma ci sta giocatore felix luna ci siamo tutti sono stati convinti da altri club a filmare vabbè ma felix luna è scherzo chissà ci sarà robertino qua dobbiamo vincere quindi facciamo così iniziamo già subito a mettere un giocatore che segna leao leao non ti faccio giocare portiamo a Rebic eventualmente Barbut sta bene lì l'Axalt lasciamo l'Axalt giochiamo così dai poi eventualmente facciamo qualche cambio allora mi raccomando hai Barbut vabbè Barbut sei un po' sei stato un po' esagerato Barbut su questo un po' troppo esagerato guarda lì eccolo qua questa è una cosa molto strana perché il giocatore ha perso due ore per passare un kunku quando è così mi puzza un po' veramente mi ha spinto non era pressato aspettami e dai l'ho visto fuori gioco mannaccia Ibra ti ho aspettato ma non te la potevo dare più tardi se no se la prendevano mannaccia mo stiamo iniziando un po' a giocare mo ok è buona è buona Ibra non ce la fa Ibra non ce la fa ce la fa ce la fa ce la fa Ibra doveva per forza segnare lui non possiamo non farlo segnare a Barbut è esagerato lo spezziamo in due a Barbut non poteva non segnare Barbut scusate Barbut 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 sembra il nome di un vino però intanto Ibra riesce ancora a fare gli schiatti ma che è sti 50 tocchi ma non si capisce una mazza ma che è stanno da 30 minuti a fare tocche e tocchetto tocche e tocche ma che è dai per cortesia ma siamo ridicoli proprio così però dai cioè non è credibile guarda lì guarda lì ma non è un giropalla vabbè pensaci tu dai abbiamo tutto il secondo tempo ma porca miseria ok vabbè è andato oh perché ma ce la fai Barbut vai oh e vai bravissimo è sempre lui eh Cucu Cucu bravo Cucu sempre naturalmente con la solita percussione di Barbut meno ma ci serviva un centrocampista offensivo bravo che segnasse eh ancora non c'è di falo laterale attenzione va bene fa niente intervento brutto vediamo questo è rosso secondo me eh neanche il cartellino gli dai no è rosso eh ah già porca miseria no ho capito mi sono cioè vi dico la verità eh cioè quando incominciano a girare a girare a fare tutte queste palle bisogna bisogna atterrarne qualcuno lui che è sbagliato 88 attenzione porca no mi sa che te ne vai a casa eh e vabbè eh vabbè perfetto riusciamo a vincere con fatica ma riusciamo a vincere questa è una partita importante secondo me eh meno male che l'abbiamo vinta porca miseria eh visto che a questo punto penso che siamo risaliti parecchi in classifica no devo fare un cambio perché effettivamente il nostro giocatore che abbiamo portato non l'abbiamo messo più in campo eh dovrà scontare una squadifica sì vabbè fa niente capita di sbagliare la squadra mi non è imbattuta fin qui in Serie A pensa di riuscire a proseguire ma quando mai abbiamo perso una volta abbiamo i giocatori giusti se riuscire a vincere un match è combattuto grazie a un gol nella ripresa cosa ha fatto la differenza secondo lei abbiamo giocato meglio è semplice e vabbè vediamo un pochettino siamo quarti addirittura a tre punti dalla vetta con la Juve vabbè e a a a a a a Sansone è riuscito a segnare e ci ha scavalcato vabbè ragazzi c'è ufficio giocatore squadrificato lo sappiamo ci vediamo al prossimo video bye ciao Grazie a tutti.